Musica Mercoledì 11 dicembre bentornati in nostra compagnia per questa seconda parte della nostra rassegna stampa del mattino che iniziamo come sempre con gli aggiornamenti su meteo e viabilità e allora ci colleghiamo subito con la centrale operativa della polizia locale di Udine per vedere quali sono le ultime per quanto riguarda la viabilità cittadina Oggi chi abbiamo al telefono con noi? Buongiorno Buongiorno Vice Ispettore Gabriele Travaggi Per quanto riguarda la viabilità cittadina a momento non ci sono grossi problemi anche se bisogna segnalare un aumento del traffico in Viale Venezia direzione centro città via Pieri direzione ospedale civile e in Chiavris ma per il momento è tutto sotto controllo Per quanto riguarda i lavori segnaliamo via del freddo quindi via Poscolle diciamo ci sono dei lavori per il faccimento del manto stradale e dei lavori in via Marinoni Oltre a ciò ricordiamo che via Mercato Vecchio è stata riaperta la circolazione pedonale nel tratto compreso tra Piazza della Libertà, Rialto e via Merceria Altre cose a momento non ci sono Perfetto, grazie e grazie allora al Vice Ispettore Travaggi per questi aggiornamenti sulla viabilità cittadina Andiamo anche a vedere com'è la situazione sulle autostrade, sulla A4 in particolare in queste prime ore del giorno La situazione sembra tranquilla, al momento non ci sono delle criticità da segnalare Ci sono un po' di coda in corrispondenza del nodo autostradale di Palmanova Coda in particolare in direzione Trieste quindi tra San Giorgio di Nogaro e il Bivio A4 a 23 Questo per quanto riguarda la viabilità autostradale Come ci mostra anche l'immagine di questa webcam vediamo il traffico particolarmente sostenuto Tanti mezzi in transito, soprattutto mezzi pesanti in queste prime ore del giorno Quindi un po' di coda in corrispondenza del nodo autostradale A4 a 23 Dalla viabilità andiamo a vedere anche quali sono le ultime Per quanto riguarda il meteo, la giornata di oggi è iniziata all'insegna delle basse temperature Si sono toccati anche i meno 8 se non sbaglio a Sappada E allora andiamo a collegarci con lo Smerarpa per vedere come andrà questa giornata Al telefono con noi oggi abbiamo Buongiorno Sergio Anordio, vi saluto e vi dà una buona giornata a tutti Ecco il tempo è buono, avete visto, una bella giornata anche oggi Un cielo sereno, ottima visibilità Anche ieri c'era un meraviglioso tramonto sulla regione con condizioni appunto di tempo stabile C'è un po' di freddo, stamattina anche meno 10 valori nelle valli più interne del Tarvisiano Ma appunto anche Sapada con valori direi comunque in linea con la media del periodo Sotto zero anche in pianura fra i meno 2 e i meno 4 a seconda delle zone Sulla costa soffia la bora, si sente un po' di vento anche sulle zone orientali E resta così oggi, bora un po' in calo ma una bella giornata Domani cambia un po', avremo un po' di variabilità C'è un primo fronte che arriva sulla regione, un fronte non particolarmente marcato Quindi porterà un po' di nuvole, un po' di variabilità Ma è possibile anche qualche spolverata di neve fino a quote abbastanza basse Potrebbero vedersi qualche fiocco anche in pianura È un fronte poco marcato, come dicevo Quindi la probabilità che ci siano delle precipitazioni è comunque molto bassa Probabilmente sarà un po' più attivo in Veneto Dove potrebbe esserci appunto qualche centimetro di neve anche in pianura Rimane fresco, temperature comunque in linea con la normalità del periodo Quindi durante il giorno domani qualche grado in meno rispetto a oggi Perché ci sarà meno sole ma sempre sopra zero Per quanto riguarda venerdì c'è un successivo fronte un po' più marcato Che porterà appunto delle precipitazioni un po' più abbondanti Anche venerdì attesa neve soprattutto sulle zone orientali A partire dai 200-300 metri di quota è probabile che ci sia un po' di accumulo di neve In pianura potrebbe iniziare a cadere un po' di neve la mattina di venerdì E poi magari buttare in pioggia Dipenderà molto dal comportamento delle temperature Nel fine settimana tempo migliore con cielo in prevalenza poco nuvoloso Grazie, grazie allora Sergio Nordio per queste previsioni In arrivo dunque un po' di neve nei prossimi giorni Poi ci risentiremo ovviamente anche domani e venerdì per le previsioni Per il fine settimana Un fine settimana che ha comunque una tendenza Che ci parla di bel tempo come abbiamo sentito anche dai nostri esperti Chiudiamo allora il collegamento con l'Osmer Arpa Mentre vediamo ancora nel nostro touchscreen alcune belle immagini In questo caso del mare Prima era la montagna, la montagna di Sella Nevea In questo caso invece siamo a Trieste Il golfo di Trieste con le prime luci del giorno E vediamo anche qui un cielo libero dalle nuvole al momento E allora chiudiamo la parentesi viabilità e meteo E ritorniamo sui quotidiani di oggi Ritorniamo sulla stampa locale Poi anche sulla stampa sportiva nazionale Come sempre in questa seconda parte della nostra segna stampa Ci concentreremo un po' di più sulle notizie sportive Oggi c'è la Champions in primo piano Con l'eliminazione dell'Inter Va avanti il Napoli che cambia però allenatore Questa sera in campo la Juve già qualificata E l'Atalanta che invece sogna l'impresa di proseguire in Champions Ma riprendiamo come detto la nostra rassegna dai quotidiani locali Allora subito le aperture di Messaggero Veneto, Gazzettino e Piccolo Il Messaggero Veneto apre con la notizia del piano che riguarda la Safilo Tanti licenziamenti Il piano drastico di Safilo in Friuli 250 senza lavoro Il ridimensionamento prevede la chiusura della sede di Martignacco Gli esuberi sono in totale 700 E l'azienda parla di scelta inevitabile Inevitabili erano attesi Si immaginavano cifre C'erano stati pronostici Ma quel numero 700 esuberi nelle 2020 Nelle fabbriche italiane di Safilo Non se li aspettava nessuno E poi vediamo a centropagina La foto di Massimo Blasoni Massimo Blasoni che ieri è ritornato a casa Gli sono stati concessi i domiciliari Dopo 48 giorni di carcere Il giudice per le indagini preliminari ha accolto l'istanza di scarcerazione presentata dai legali del patron di Sereni Orizzonti Questo è il titolo in prima pagina e poi nelle pagine interne come sempre abbiamo tutto l'articolo Nel taglio basso una notizia che invece ci arriva da Gorizia Che si lega un po' anche agli ultimi avvenimenti Abbiamo visto prima sulle prime pagine dei quotidiani nazionali La manifestazione di ieri a Milano A sostegno di Liliana Segre Contro ogni forma di razzismo e antisemitismo Gorizia ha deciso di negare la cittadinanza alla senatrice Liliana Segre Occorrevano 28 voti per conferire la cittadinanza onoraria Ma al termine di quasi 4 ore e mezzo di dibattito è arrivata la fumata nera 21 sì, la maggioranza ma insufficiente E 15 astensioni e 5 assenti Andiamo a vedere anche l'articolo nelle pagine interne E vediamo appunto Gorizia si rifiuta di dare la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre Il sindaco dice la sopravvissuta ad Auschwitz ormai è un vessillo La inviterò in città e le consegnerò il sigillo trecentesco Andiamo adesso anche sulle prime pagine del fascicolo di Udine Del messaggero Veneto Vediamo la cronaca con il caso di intossicazione da monossido di carbonio Nella notte di ieri Una famiglia, un papà, una mamma e un bimbo di 4 anni Sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio in casa In via Butrio a Udine Sono stati portati d'urgenza in ospedale a Udine Poi il trasferimento a Trieste per il trattamento in camera iperbarica Sono già rientrati a casa Adesso stanno bene ma la paura è stata tanta E l'allarme è stato lanciato appena in tempo Vediamo anche l'appello degli esperti Dei vigili del fuoco che dicono Molti gli impianti privi di manutenzione Ma è un rischio enorme e sottovalutato In questo caso però l'impianto era stato controllato appena tre mesi fa E ci sono le parole del papà che dice Mia moglie aveva dolori al torace e mal di stomaco Non mi reggevo in piedi Una sensazione orribile Fortunatamente i soccorsi sono stati chiamati in tempo Chiudiamo questa pagina del messaggero Veneto di Udine E andiamo adesso sulla prima del messaggero Veneto di Pordenone Vediamo in apertura ancora dei furti negli ospedali della regione In questo caso gli ospedali di Pordenone e Sacile Anche qui sono state rubate delle sonde ecografiche Come era accaduto nei giorni scorsi all'ospedale di Tolmezzo E ancora prima in altri ospedali della regione A Palmanova qualche tempo fa I carabinieri erano riusciti anche a individuare E a fermare la banda dei ladri Delle sonde ecografiche Che adesso è ritornata in azione Pordenone e Sacile Razzia dei ladri nei due ospedali In azione la banda che ruba sonde per ecografi Bottino di 40 mila euro Nessun segno di scasso Si segue la pista dei furti su commissione E questo è l'articolo che apre le pagine di Pordenone del messaggero Veneto In prima pagina anche spazio a questa notizia Che ci racconta la vicenda Le difficoltà che devono vivere i residenti In questo condominio Ascensore Guasto Il quartiere va in tilt Scale con bici in spalla E questo appunto per quanto riguarda la cronaca dal Pordenonese Andiamo adesso anche sulle pagine del Gazzettino E andiamo a vedere anche qui i titoli di apertura Il Gazzettino apre con la notizia della scarcerazione di Massimo Blasoni Che passerà il Natale a casa Il giudice ha concesso gli arresti domiciliari al fondatore di Sereni Orizzonti Il suo legale Ponti dice siamo soddisfatti Si è rivelato determinante il cambio di rotta dei nuovi vertici Considerato mitigato il pericolo di reiterazione del reato E poi vediamo a centro pagina una foto notizia Che ci mostra la roggia di palma asciutta per i lavori di bonifica O meglio per i lavori di pulizia avviati dal consorzio di bonifica Che ha lanciato un appello alle associazioni ambientaliste Per il recupero di questi animali papere, anatre e germani Che appunto senza acqua si trovano in difficoltà Il consorzio di bonifica ha lanciato un tam tam rivolto alle associazioni E qualcuno ha risposto Patto con i volontari per trasferire gli animali Scrive il Gazzettino Spazio ovviamente anche alla politica con il Consiglio regionale Che ha iniziato l'esame della legge di bilancio E ci sono polemiche per la dotazione della cosiddetta legge mancia Quella che raccoglie fondi a disposizione del Consiglio regionale Per i piccoli stanziamenti Gli stanziamenti e i finanziamenti puntuali L'ufficio di presidenza avrebbe richiesto un milione e mezzo di euro In bozza di bilancio la Giunta ne prevedeva 500 Poi si è arrivati a un milione Comunque meno di quanto richiesto dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale E poi anche un'altra notizia sulle pagine del Gazzettino Il Cinema Visionario con i lavori addirittura ad arrivo Per la realizzazione di una prima sala Riapre una sala del Visionario Dopo i lavori il 17 dicembre tornerà operativa la Astra Con 175 posti Ci saranno poltrone in pendenza E anche uno schermo maxi taglia Queste le novità per quanto riguarda il Visionario Andiamo anche sulle pagine del piccolo Il piccolo di Trieste e di Gorizia Prima di aprire il capitolo sportivo Sul piccolo di Trieste In apertura la richiesta di un aumento del pedaggio Presentata da Autovie Autovie ci riprova Pedaggio più caro per completare la terza corsia della A4 Tariffe su dello 0,8% Ma un anno fa Roma disse di no Gli automobilisti pagano già il 50% in più rispetto al 2019 E' questa la notizia che apre il piccolo di Trieste Andiamo anche sul piccolo di Gorizia Dove in primo piano troviamo appunto anche qui la notizia che riguarda Autovie Nel taglio alto un incidente stradale del quale vi abbiamo riferito nella mattinata di ieri a Gorizia Un investimento mortale Pensionata travolta da un'auto Muore sul colpo Una donna di 75 anni Aveva una vita tranquilla Casa, chiesa e passeggiate Questa l'apertura del piccolo di Gorizia Apriamo la pagina sportiva adesso e lo facciamo attraverso le pagine sportive dei quotidiani locali Andiamo allora sul gazzettino e vediamo subito assieme la pagina dedicata all'Udinese Ecco il titolo di apertura Udinese Ora Patron Pozzo punta tutto su Mister Gotti E' tecnico tra i più preparati Siamo in mani sicure Faremo il possibile per tenerlo con noi a lungo Ha detto ieri Paron Pozzo con la corazzata Juve Serve un miracolo per uscire indenni Ma la squadra mi è piaciuta contro il Napoli Spero si ripeta Le parole di Pozzo ieri al termine Della consueta messa tradizionale a Castelmonte Al santuario di Castelmonte Una messa ufficiata da un Maurizio Micheluti Parroco della parrocchia di San Pio X di Udine Concelebrata anche da altri sacerdoti friulani Si è parlato appunto della prossima trasferta a Torino Della panchina dell'Udinese E tra le ultime novità C'è anche la data della Coppa Italia contro la Juve a Torino Il 15 gennaio alle 20.45 Spazio anche ad alcune voci di mercato Con Perizza che in Belgio ha ritrovato la voglia del gol A gennaio tornerà Vizeu dal gremio E Wallace cerca spazio E poi De Paul di spalla La corte dell'Inter su De Paul è insistente La pagina successiva è dedicata Al Pordenone Pordenone che come sappiamo sta giocando Questo campionato alla Dacia Arena Non ha ancora un suo stadio a Pordenone E il sindaco Ciriani dice Lo stadio va fatto Gennaio Sarà il mese decisivo Con Lovisa stiamo cercando i privati interessati Poi troveremo lo strumento giusto Alla Dacia Arena sono già stati raccolti 20 punti Ma il pubblico non corrisponde alla classifica E poi anche qui abbiamo tutto l'articolo Con le parole del sindaco di Pordenone Ciriani Andiamo anche sulle pagine del Messaggero Veneto E andiamo anche qui a guardare assieme Le pagine sportive per quanto riguarda l'Udinese Si parla di Mandragora in apertura Mandragora in regia funziona meglio Ora lo aspetta la Juve Il napoletano da mezzala è migliorato Rispetto a un anno fa Domenica per lui un esame importante Coi campioni d'Italia E se la prossima estate La Juve Agnelli vorrà riscattarlo Dovrà sborsare 26 milioni ai Pozzo E poi l'altro centrocampista Fofanà dai fischi contro il Parma Agli applausi con il Napoli Gotti ha ritrovato Fofanà Per quanto riguarda l'Udinese Andiamo anche sulle pagine successive Andiamo a vedere anche questo altro articolo Che ci mostra una foto Del pellegrinaggio di ieri a Castelmonte I bianconeri con Pozzo in visita a Castelmonte E poi nel taglio alto Un'analisi sulla statistica Sui numeri delle cosiddette pericolanti Soltanto l'Udinese ha fatto più punti Tra le pericolanti rispetto a un anno fa Il confronto tra le due classifiche Dice più due per Lasagna In company Spale e Sassuolo sono a meno sei Genoa a meno cinque Sampdoria a meno otto Il Pordenone adesso anche sulle pagine Del messaggero Veneto Andiamo a prendere la pagina Eccola qua Squadra coesa Calciatori motivati Questo Pordenone è destinato a durare Dice Foscarini Claudio Foscarini Ex tecnico del Miracolo Cittadella Che applaude i neroverdi E il lavoro dell'amico Tesser Attilio ha creato l'alchimia giusta Squadra coesa Calciatori motivati Questo Pordenone è destinato a durare Andiamo anche sulle pagine Della Gazzetta Dello Sport E andiamo a vedere anche qui Prima di andare sulla prima pagina E parlare di Champions L'assalto alla Serie A Con le tre squadre In corsa Pordenone Cittadella E Chievo Per quanto riguarda il Pordenone Tesser sa come vincere La Dacia Arena è alleata E di Gregorio Para tutto Scrive Alberto Bertolotto Sulla Gazzetta Il Pordenone sta vivendo un sogno Secondo posto Dopo 15 giornate All'esordio in B Ora la formazione di Tesser Vuole mantenere il contatto Con le zone alte E per farcela Deve migliorare in trasferta Dei 25 punti Totalizzati sinora Infatti solo 5 Sono arrivati lontano Dalla Dacia Arena E poi vediamo Lo stato di forma Il Pordenone sta attraversando Un periodo di grande salute Dal punto di vista fisico E mentale Gli uomini chiave Uno per reparto In porta di Gregorio È una Sara cinesca In difesa camporese E poi in mezzo al campo Burrai E davanti Strizzolo Con la sua bravura Ad attaccare la profondità Sfibra Le difese avversarie Calendario e prospettive Cosenza in trasferta Ascoli in casa Salernitana fuori E infine Cremonese Alla Dacia Arena Queste le ultime 4 tappe Del Pordenone Da qui al termine Dell'andata Un programma più che Alla portata In cui si può mettere In preventiva Un bottino tra gli 8 E i 10 punti Che faranno di sicuro Restare la squadra In scia Del Benevento Andiamo adesso Sulla prima pagina Della Gazzetta dello Sport E degli altri Quotidiani sportivi Nazionali Per iniziare A dare un'occhiata Anche ai titoli Di apertura Le ultime notizie Le ultime notizie Che ci arrivano Soprattutto Dalle squadre impegnate Nelle coppe europee Il verdetto I verdetti Della giornata Di ieri E sono l'eliminazione Dell'Inter E il passaggio del turno Invece del Napoli Fuori Titola la Gazzetta dello Sport Riferendosi ovviamente Dall'Inter All'Inter Eliminato Dalla Champions Dal Barcellona Che spreconi Inter gelata Dal Barça 2 Lukaku segna Ma si mangia Tre gol I catalani Sbancano San Siro 2 a 1 Con rete della vittoria Di Fati 17 anni Ora i nerazzurri Retrocedono In Europa League Il tecnico Triste Dice Ci spiace Una grande delusione E poi Vediamo Ancelotti esonerato Il Napoli Ringhia Si qualifica agli ottavi 4-0 Al Gen Che pure Dell'Aurenti Licenzia L'allenatore Che potrebbe finire All'Arsenal Oggi arriva Gattuso Scrive La Gazzetta E oggi Saranno in campo Anche Juventus Già qualificata Al turno successivo E l'Atalanta Che invece Cerca il sogno Qualificazione Il Papu Torna in Ucraina Contro lo Shakhtar L'Atalanta Per la storia Gomez Tra passato e futuro Deve vincere E sperare Nel City Per sperare In una qualificazione Agli ottavi Di finale O anche Il passaggio Del turno All'Europa League L'auspicio Che non arrivi Una sconfitta E quindi Un'eliminazione Dalle coppe Europee Vediamo Le pagine interne Della Gazzetta Per quanto riguarda L'Inter Il titolo è Come brucia Lukacus Precone L'Inter non sfonda E il Barca Riserve Butta fuori Conte Catalani avanti Con Carles Il Berga Pareggia Ma poi si mangia Facilissimo Due a uno E in chiusura E Bebifati A spedire I nerazzurri Nel purgatorio Dell'Europa League Andiamo a vedere Anche come Sta vivendo Il Napoli Questo è un momento Il Napoli Ha gattuso Vincere non basta L'ultima cena Con Antonio De Laurenti Sancelotti Esonerato Arriva L'amico Rino E poi Vediamo Anche Come dicevamo L'impegno Di Coppa Della Juventus Che oggi Sarà Impegnata Contro Il Bayer Leverkusen Un aspirino La medicina Per la Juve Rabiot E l'ora di guarire Sar ricerca Il vero Duca Adrienne Finora giù Col Bayer Può essere La medicina Per la mediana Il tecnico Giocherà Uno Spezzone Di partita La Juve Lo ricordiamo È già Qualificata L'Atalanta Invece Si gioca Oggi Il tutto Per tutto Il protagonista Alla vigilia Di questa gara È il Papu Gomez Con la sua sfida Al passato Per il futuro Gomez Ritorno A Kharkiv Con l'Atalanta Sulle spalle Guerra E squalifiche Che brutti ricordi Del Papu Gioiello Nel Metalist Ora ha la possibilità Di realizzare il sogno Per cui era andato In Ucraina L'Atalanta L'Atalanta Si qualifica Agli ottavi Di finale Di Champions Se Andiamo a vedere Cosa ci dice La Gazzetta Ecco qua La pagina Se Vince E La Dinamo Zagabria Non batte Il Manchester City Vincendo È comunque Sicura di andare In Europa League Se pareggia O perde È fuori Da Tutto Una giornata Davvero Importante Per L'Atalanta Ieri Si sono giocate Le altre partite Di Champions Dei Gruppi E, F, G E, H Le qualificate Sono Liverpool Napoli Barcellona Borussia Dortmund Lipsia Lione Valencia E Chelsea Già qualificate Anche PSG Real Madrid Bayer E Tottenham Le ultime Due Squadre Qualificate Agli Ottavi Usciranno Dalle partite Di oggi Nel gruppo C Che vede Impegnata L'Atalanta E nel gruppo D Con la Juventus Che è già Qualificata E vedremo Chi passerà Fra Atletico Madrid E Bayer Leverkusen L'altra copertina Della Gazzetta Dello Sport Di oggi È dedicata Al volley L'Italia padrona Stelle Testa E super campionati Nel volley Siamo centro Del mondo Coach De Giorgi Dopo le vittorie mondiali Delle ragazze di Conegliano E della sua Civitanova Dice Si deve migliorare Giocando Andiamo anche su Corriere dello Sport E tutto sport Andiamo a vedere anche Le altre aperture E tutto sport Scrive Il nuovo Messi Castiga L'Inter Ansufati 17 anni Entra e firma La vittoria del Barça Grande Lautaro Lukaku Spreca I nerazzurri Retrocedono In Europa League Avanti Il Dortmund E poi Vediamo Forza Dea Di spalla Antonio Non passa più L'Inter Retrocede In Europa League 1 a 2 Con il Barcellona Chiudiamo Anche queste pagine Dei quotidiani Sportivi Nazionali E in chiusura Di questa nostra Diretta di oggi Andiamo a vedere Quali sono Le ultime news Se ci sono Degli aggiornamenti Sui principali Siti di informazione Online Questo è il sito Dell'Ansa Che apre Con una notizia Di cronaca Questa mattina Sul Corriere In prima pagina C'era appunto La notizia Di questo investimento Nel Bresciano Di una mamma Con il bambino Che è in grave condizioni E' stata fermata La donna Che ha investito Madre e bambino E' una ragazza Di 22 anni Il bambino Di due anni Era con la mamma Nel passeggino E sulle strisce Pedonali Questa La notizia Di apertura Dell'Ansa In questo Momento Ancora Vediamo anche La seconda notizia Un blitz Della polizia D'aspo e denunce Per gli ultra Torino Hooligans Accuse Violenza privata Rissa E lesioni Colpito Tutto Il gruppo Andiamo a vedere Anche il sito Del TG.com 24 E andiamo A vedere anche qui Quali sono le ultime Ora Vediamo sempre In primo piano Il bimbo investito a Brescia Affermato il pirata Della strada E una 22N E poi Le immagini Le foto Del vulcano Wakari In Nuova Zelanda Lo ricorderete L'eruzione Dei giorni scorsi Con Con diverse Vittime Il vulcano Ha ripreso A eruttare Questa La notizia In primo piano Sul sito Del TG.com 24 Siamo in chiusura Giusto il tempo Di ricordarvi Gli appuntamenti principali Di oggi Su Udinese TV E mercoledì Quindi la nostra prima Serata è dedicata Al basket Al basket Tonight Condotto da Jacopo Romeo L'ospite Di questa sera Sarà l'ultimo arrivato In casa APU L'ultimo acquisto Giulio Gazzotti Allora Appuntamento Alle 21 Noi invece ci rivediamo Alle 11 Come ogni giorno Per la prima edizione Del nostro TG Grazie per l'attenzione Buona giornata a tutti Buona giornata a tutti